Sicurezza, valore. E' questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere E.O. Residenza Acquacetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acquacetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti, convenzioni e mutui con intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle 10 alle 18 e 30. Residenza Acquacetosa Ostiense. Residenze con carattere. Piazza di Siena diviene per la prima volta scenario di competizione equestri nel 1922, ma è nel 1926 che la FEI, Federazione Equestra Internazionale, inserisce il concorso romano nel circuito internazionale e da allora ha inizio la numerazione ufficiale dello Xio di Roma. Su quello che molti hanno definito come il Magico Anello, hanno gareggiato i cavalieri più importanti e rappresentativi della storia degli sport equestri. L'appuntamento con il concorso ippico fu interrotto solo dal 1941 al 1946, durante la Seconda Guerra Mondiale. È fuori di dubbio che il concorso capitolino abbia anche nel panorama equestre internazionale qualcosa di più, il fascino della storia, del mito, che fanno dell'ovale di Villa Borghese un luogo sacro dell'equitazione italiana. Basta scorrere l'albo d'oro, delle due prove sportive più importanti, la Coppa delle Nazioni e il Gran Premio Roma, per rendersi conto di come almeno fino a metà degli anni 70 il nostro paese schierasse una delle squadre più competitive a livello mondiale. Impossibile non ricordare a questo proposito il colonnello Piero Dinzeo, che si è aggiudicato la prova per ben sette volte e con sei differenti cavalli. Nel 1960, anno in cui Piazza di Siena ospitava le prove individuali dei giochi olimpici di Roma, l'Oxio è stato spostato a Torino. Nel 2003, anche il concorso ippico di Piazza di Siena è stato inserito nella Top League del circuito FEI, che unisce gli otto migliori concorsi internazionali ufficiali di salto ostacoli, confermando l'evento romano nell'elite dell'equitazione mondiale. Ma il complanno per l'Oxio di Roma, Piazza di Siena, film design, show jumping sarà doppio. Oltre alle 80 edizioni, il concorso romano tocca infatti anche 10 anni di presenza della FEI Top League Team. La Serie A dell'equitazione mondiale. Questo circuito, istituito dalla Federazione Equestra Internazionale, fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2003, ha visto l'appuntamento di Piazza di Siena, sempre inserito tra i migliori otto concorsi del mondo che lo compongono, a testimoniare questo duplice traguardo e a festeggiarlo con la FISE e tutto il movimento sportivo italiano, a Roma arriverà un'ospite d'eccezione, la principessa Aya di Giordania. Prima donna araba a gareggiare in competizioni equestre internazionali di alto livello, la principessa Aya sarà a Piazza di Siena nella sua veste di presidente della FEI, carica che ricopre dal 2006 e presenzierà la cerimonia per ripremiazione della Coppa delle Nazioni in programma venerdì 25 maggio. 11 le gare in programma da giovedì 24 maggio a domenica 27, mentre nel pomeriggio di venerdì ad affrontarsi in Coppa delle Nazioni, seconda tappa della FEI Top League, ci saranno otto team nazionali, Germania, campione in carica, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Svezia e Svizzera, a loro si unirà anche la squadra italiana, ammessa la gara solo in qualità di paese ospitante. Non mancheranno però gli appuntamenti di contorno alla programmazione agonistica vera e propria, il tardo pomeriggio di sabato l'ovale di Villa Borghese farà da cornice al carosello dei Lanciari di Montebello. Domenica, dopo il Gran Premio Roma, sarà la volta del carosello dei ragazzi di Villa Buon Respiro e a seguire quello attesissimo del reggimento dei Carabinieri a cavallo, che torna nella fascia pomeridiana delle 18 e 15. Buona visione e buona Piazza di Siena. I 80 anni veramente non sono pochi, non sono pochi vissuti in maniera così splendida come ha fatto Piazza di Siena in tutto questo tempo. Anche quest'anno credo sarà un grande successo, è un momento particolare, verrà Aia di Giordania, la principessa, la presidentessa della Federazione Equestria Internazionale, proprio per presenziare la nostra Coppa delle Nazioni, che ancora una volta fa parte del circuito, dei concorsi più importanti del mondo, della Top League, quindi i migliori 8, è sicuramente il concorso più bello del mondo. Senti, per ricordare l'ottantesima edizione di Piazza di Siena, avete organizzato una mostra fotografica, stavamo dicendo prima in sala. Sì, Lucia, abbiamo organizzato una mostra fotografica nel villaggio VIP, perché noi come federazione siamo proprietari di un importante numero di archivio fotografico, quindi tantissime fotografie che possono essere utilizzate e verranno esposte proprio per ricordare i momenti suggestivi, i momenti evocare anche il passato, che è un passato fatto di costume, di società, di politica. Insomma, Piazza di Siena è passata veramente la storia del nostro paese e sarà bello riviverlo insieme anche con i spettatori. Giovanna, tu ci sei scesa in quel Magico Anello? Ebbene sì, ci sono scesa sia in squadra, scelta tra gli azzurri con Piero D'Inzeo, che era capo equip, sia l'anno prima nella gara del cavallo italiano. Io avevo un cavallo italiano addestrato da me, il quale è espertissimo, che come è entrato in Piazza di Siena non avanzava più, tanto era impressionata dalla storia, dal peso della storia di quel campo. Sono 80 anni, o meglio, è l'ottantesima edizione di Piazza di Siena. È chiaro che nessuno di noi può ricordarsi come è partita, ma tu hai dei ricordi, dei ricordi di quello che è stata Piazza di Siena molti anni fa, non oggi, senza fare paragoni però. Va bene, i paragoni li lasciamo perdere. Il mio papà e la mia mamma, che sono appassionatissimi di cavallo, partivano, mio papà non c'è più, comunque partivano da Torino per venire apposta a vedere Piazza di Siena. Ed era un evento e si vedevano ovviamente i D'Inzeo vincere, Mancinelli vincere. Era una cosa di grande lusso per i nostri colori, la nostra storia. Altri cavalieri importantissimi che hanno vinto tanto a Piazza di Siena, ancora precedenti ai D'Inzei e coloro che hanno avuto veramente le basi della nostra equitazione sono stati Bettoni, Colonello Bettoni, Cafaratti, tutti allievi dal famoso Caprilli, che ha rivoluzionato e insegnato al mondo come andare a cavallo e come far saltare i cavalli. Rappresento qui l'Anciè di Montebello, il mio reggimento che ha sede presso il Tempio dell'equitazione militare, l'ippodromo militare di Torre di Quinto, che appunto è stato sede anche della Scuola Militare di Equitazione, ai tempi del Capitano Caprilli, che tutti conosciamo come l'inventore del sistema naturale di equitazione. In un anno come questo in cui ricorrono sia l'ottantesimo di Piazza di Siena e sia il settantesimo anniversario delle ultime cariche di cavalleria combattute da reggimenti di cavalleria sul fronte russo e quello balcanico, esattamente Savoia Cavalleria, quella più nota, ma ce ne sono anche altre due, combattute dai cavalleggeri di Alessandria e dai lancieri di Novara. In questo, volendo rappresentare in una sintesi di circa 35 minuti, effettueremo una rievocazione storica a cavallo, in cui rievocheremo la figura del Capitano Caprilli e con lo squadrone a cavallo dei lancieri Montebello, l'esibizione del cosiddetto carosello di lance, interpretato ad hoc per l'occasione, quindi unendo sia un saggio di abilità equestri, di movimenti in ordine chiuso, che sono tipici di unità di cavalleria, e anche quelli più propri dell'equitazione, quindi effettuando anche dei piccoli esercizi sul salto. Peccato che a Piazza di Siena Caprilli non ci sia mai potuto venire, però... No, però indubbiamente il maestro dei maestri, così come qualcuno l'ha definito, ha sicuramente gettato le basi, ancorché la sua morte sia stata prematura, come tutti, potremmo dire, i geni della storia dell'umanità, sicuramente lui può essere ascritto in questa lunga schiera, e tutti i suoi allievi hanno poi di fatto animato, e anzi hanno, per così dire, monopolizzato le primissime edizioni per decenni del concorso internazionale di Piazza di Siena. Questo è il mio debutto con la squadra, è sicuramente un'emozione grandissima, è un onore, una grande emozione, una grande responsabilità, che porta sicuramente una grandissima soddisfazione. Parlaci un attimo del tuo cavallo, visto che è considerato che, in fondo, il vero protagonista è lui, no? Sicuramente, senza di lei, una femmina vivina, che è una femmina di 13 anni belga, che è arrivata sotto la mia sella l'anno scorso, lo scorso luglio, grazie a un pool di proprietari che si sono uniti per acquistare questa eccezionale cavalla. Io credo che devo tutto a lei e a loro, li ringrazio innanzitutto perché hanno creduto in questo progetto, hanno creduto in me, che dire, spero di... Nel mondo dei cavalli non si devono fare né previsioni né darsi auguri perché porta sfiga, quindi siamo zittissimi. Mi auguro solo di continuare a dare delle belle soddisfazioni per continuare a vivere un po' questo sogno che dall'anno scorso ci ha preso, dai. È una cavalla che caratteristica, è una cavalla in avanti, è una cavalla equilibrata, che personaggio è? È una cavalla molto insanguata, lei ha tantissima voglia di fare, il cavaliere deve essere, deve limitarsi a gestire un po' il suo equilibrio, è estremamente coraggiosa, di grandissima forza, è molto esperta, quindi solo gestirla, solo tenerla tranquilla, per il resto problemi pochi. Allora tiferemo per lei, anzi per voi. Per l'Italia, grazie. Quello era dato per acquisita. Grazie mille. Lei, se posso, ha parlato di sfiga, ma noi siamo molto più forti della sfiga, perché insieme a noi, Vivina, Luca è la nostra mascotte, il nostro portafortuna. Per me, Luca Mazzalle è campione con il suo bisene, anche la famiglia nostra, io, papà, mamma, Marco, l'esca. Voglio che Luca Mazzalle fai la Coppa Nessone con il suo siena. Grazie Luca, un grande in bocca al lupo a tutti. Sicurezza, valore, comfort, è questa la personalità che devi avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere E.O. Residenza Acquacetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acquacetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello, a costi contenuti. Convenzioni e mutui con intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato, dalle 10 alle 18 e 30. Residenza Acquacetosa Ostiense. Residenze con carattere.